Bella idea, bella idea, a dare tutti quantità, Floridea, Floridea, ma che idea? I tutorial di Floridea! Ben trovati a questo appuntamento con i tutorial del Garden Floridea, quest'anno una grande novità perché l'autunno è la nuova primavera. Che cosa significa? Lo chiediamo a Francesca che ci illustra le novità. Significa che la vecchia idea dell'autunno, quelle foglie che cadono, quelli colori smorti, dimenticatela completamente da noi. Qui è scoppiata proprio la nuova primavera, quindi assolutamente un'esplosione di colori, piante autunnali meravigliose, profumatissime, che vi faranno pensare proprio più a un maggio che non a un ottobre in realtà. Ci vuoi fare qualche esempio di cosa possiamo mettere sui nostri balconi, nelle nostre case o nei nostri giardini? Assolutamente, le veroniche sono tra le più amate per l'autunno, per queste spighe viola meravigliose che producono, il platicodon, il giallo e il rosso intenso dei peperoncini, poi il classico ciclamino che non può mancare perché con i primi freddi poi ha un profumo che è assolutamente suo, non si può assolutamente confondere con nient'altro. Non dimentichiamoci che per tante persone è importante anche pensare al giardino, non solo al balcone, quindi piante più importanti che danno il meglio di sé proprio con i colori dell'autunno. Il più importante è forse l'acero, i cespugli da siepe si cominciano a colorarsi, per cui ecco tantissima, tantissima scelta e la stagione è anche giusta perché è la stagione giusta proprio per fare i trapianti. Per chi invece vuole proteggere, vuole conservare le piante che ha amato così tanto durante l'estate, qui a Floridea trovate tantissimi tantissimi prodotti proprio per conservarle al meglio, quindi dalle sere in PVC fino a tutti i tipi di telo non tessuto con le diverse grammature per le diverse esigenze delle piante. È il momento di incontrare Silla che di solito ci regala sempre qualche notizia importante. Per questo settembre cosa succede al Garden Floridea? Per questo autunno che è la nuova primavera vogliamo fare una sorpresa ai nostri clienti con sabato 16 e domenica 17 settembre faremo il 20% di sconto su tutte le piante autunnali. Ma siamo sicuri Silla? 20% di sconto su tutte le piante autunnali? Sì, perché l'autunno è la nuova primavera, ma solo al Garden Floridea. Grazie a tutti.